mi trovo a Fiesole e qui è nata la prima cantina in città abiteremo qua però io abiterò sempre sulla mia cantina è una cantina in città ma c'è una cantina sotto casa questo è un posto veramente che ha qualcosa di speciale cioè c'è un'aura forte è un posto veramente bello e c'è completa perché c'era veramente tutto c'è l'alcubus davanti alla porta di casa la casa la vista la cantina la terrazza per fare il wine bar in questa cantina unica nel suo genere arrivano le uve migliori dei territori di toscana il grosso del lavoro veramente è fatto nella vigna e nella selezione dei territori dei terroir dei terreni a me piacciono vini che esprimono in maniera molto pura il territorio per cui meno interventi meno intervento possibile no per cui abbiamo smesso di fare vendemmia verde abbiamo smesso di fare concentrazione non facciamo salassi pochissimo legno nuovo negli spazi dello storico hotel aurora qui a Fiesole troviamo le baric dove il vino riposa e trova il suo equilibrio cerchiamo di tirare fuori una purezza della materia del filo e si trova questa cosa nel bicchiere grazie 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 grazie